Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e siamo tornati con Balotelli, signori, con il nostro Super Mario, pronti per un nuovo episodio, pronti per una nuova avventura. Allora, prima di tutto facciamo gli allenamenti in modo tale che rimaniamo... Stiamo raggiungendo i 78 però, signori, attenzione, con fatica e con sudore stiamo raggiungendo i 78, in alcuni punti però, in alcuni punti, perché in altri stiamo calando malamente, però va bene, non sono dettagli che ci interessano. Signori, non perdiamo tempo, non perdiamo la concentrazione, scendiamo subito in campo per il ritorno di Conference Cup contro il Real Sociedad, in cui l'andata l'abbiamo vinta 1-0, quindi dobbiamo difendere a tutti i costi, con le unghie e con i denti, il risultato e portarci a casa il passaggio del turno. Abbiamo un piede già ai quarti e direi di metterceli tutte e due e andare avanti, e andare avanti. Noi, se non sbaglio, questo video dovrebbe finire col primo di aprile, dobbiamo poi a fine video capire un attimino le tempistiche, perché poi dobbiamo anche chiedere il trasferimento. Tra un paio di video inizieremo a chiedere il trasferimento per iniziare a cercare la nostra prossima squadra futura. Nostra prossima squadra futura che il sogno, come ho detto sempre fin dal primo episodio di questa serie, sarebbe quello di tornare in Italia. Attenzione però, concentriamoci sulla partita di oggi, Balotelli subito, uno contro uno, azione di contropiede, Balotelli, 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 Balotelli tiene un attimino il pallone per non perderlo, come è successo in altre occasioni. Attenzione, Balotelli, 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 il passaggio è lungo, ma lui la piazza! Ah, super, Mario, Balotelli, con il Sium di Adana, signori, con il Sium in Turchia, risuona, questa volta però tramite la voce di Balotelli. Dai così, la sblocchiamo subito, rigore, al 34esimo, così a caso, oddio, darmelo in campionato, rigore. Noi li teniamo sempre centrali, signori, per non sbagliare, vediamo se Balotelli ci farà il miracolo, attenzione, 3, 2, 1, il tiro. Ricore centrale, Balotelli, doppietta personale, doppietta personale, 2 a 0, partita chiusa, signori. 2 a 0 al ritorno, 3 a 0 totale, loro dovrebbero fare almeno 4 gol per passare il turno, la vedo abbastanza difficile. Attenzione, il resto di Giuseppe però a corso di distanza, al 73esimo, stiamo 2 a 1, che non ho capito chi è che sta facendo l'azione. Azione loro, azione loro, attenzione, Balotelli che si trova casualmente in difesa. Balotelli si trova casualmente così, per caso, in difesa, ci metto un piede e la ferma lì. Calcio d'angolo per noi, all'ottantasettesimo. All'ottantasettesimo, calcio d'angolo per noi, attenzione, Balotelli parte, Balotelli parte, si fa vedere, si fa dare subito il pallone, al limite dell'aria di rigore. Attenzione, Balotelli, Balotelli, effetto, un leggerissimo cross, che però non serve a niente. Balotelli ruba un pallone al compagno di squadra e poi la palla è persa, attenzione ancora. Buon'azione, Balotelli, sulle caviglie. Attenzione, Balotelli, Balotelli, Balotelli. Azione di... ancora, batti e ribatti. Finalmente il pallone, però viene fermato e la partita finisce, signori. 2 a 1 per la Tana Sport, il doppio è Tani Super. Mario, Balotelli. Va bene così. E passiamo il turno, si vola verso i quarti, si vola verso i quarti. Gara combattuta, ma li abbiamo asfaltati, non c'è stata storia, signori. Va bene così. Che squadra sono rimaste? I Spurts, il Fennord. Ecco, beccassimo il Tottenham sarebbe un pochino paranoico. Ingratata sarà e fuori, il Fennord è dentro, il Tottenham, Sporting Braga, Praga. Va bene, vediamo, signori. Vediamo il caso cosa ci andrà a portare. Vediamo il caso cosa ci andrà a portare. Lo vediamo a fine episodio. Lo vediamo a fine episodio. Chi sarà il nostro avversario in Conference League. Sono arrivati dei soldi importanti. Andiamo a giocare contro il Fenerbahce, signori. Attenzione, Conference League. Lo vediamo in diretta. Il sorteggio, attenzione. Non so chi prende la prima pallina. Adana Sport. Vediamolo in diretta, il sorteggio, signori. Vediamo se spunta. Spunta, spunta. Spunta. Adana? Che cazzo la stai di? Fennord Adana, signori. Becchiamo il Fennord. Eh, poteva andarci meglio, poteva andarci meglio. Il Fennord sarà abbastanza complicato, però poteva andarci meglio. Siamo un po' costanchi, signori. Siamo un po' costanchi. Ci ributtiamo sul campionato, in cui nelle ultime due giornate abbiamo fatto due pareggi che non ci hanno avuto niente aiutato nella corsa al titolo. Perché il grado sai, una l'ha pareggiata e una l'ha vinta. Quindi nella corsa al titolo mi sa che siamo un attimo, abbiamo un attimo inciampato nelle ultime due partite di campionato. Quindi dobbiamo cercare di rialzarci subito. Di rialzarci subito e di cercare di far bene. E portarci subito a casa a tre punti. Occasione nostra. Balotelli è un po' indietro. Siamo ancora un po' fuori dall'area di rigore. Il Roscio cerca qualcuno, ma non trova nessuno. Balotelli, Balotelli, dice forse del pallone. Balotelli, Balotelli, Balotelli. Vediamo che si inventa. Balotelli, 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 Balotelli. Balotelli, Balotelli, Balotelli. Subito ne possiamo parlare. Ok, la palla arriva subito al Balotelli che però, mannaggia. 2-0, perdiamo dai. Non ci posso credere, signore. Niente, purtroppo ci ha fatto fare solo tre azioni. Cioè, vi rendete conto? Ci ha fatto fare solamente tre azioni. E... Ecco. 2-1, signori. 2-1, Balotelli trova il gol, ma è inutile. All'88esimo. Niente, sì, e purtroppo è così da abbassare... Tra l'altro il rigore di Joe Pedro, l'86esimo, dico, non ce li fa nemmeno parare. Ah, effettivamente non me li può far parare, perché io gioco con Balotelli, ma muco semplicemente Balotelli, quindi i rigori non li posso parare, perché non ho il pieno controllo di tutta la squadra, quindi effettivamente è stato delle cagate da due episodi, e effettivamente i rigori io non li posso parare, perché non è che gioco con tutta la squadra, gioco solo con Balotelli. Quindi, va bene, vediamo allora un attimino la classifica, significa che si è fatta bruttissima. E... sì, manteniamo un punto di vantaggio sul Besiktas. Abbiamo... 6 punti di ritardo sul Galatasaray, che però ha sempre una partita in più. E non va bene questa cosa, non va per niente bene. Andiamo alla terza partita dell'episodio, che sarà anche l'ultima per oggi. Andiamo a giocare contro il Gaziantep. Se servirebbe magari una vittoria, abbiamo fatto proprio... Gioca partita contro la Balotelli. No, gioca la partita, no, momenti clou contro la Balotelli. Purtroppo, in tre partite di campionato che abbiamo fatto, abbiamo fatto due parigi e una sconfitta. Siamo precipitati pesantemente in maniera verticale. Rimantiniamo la seconda posizione, ma non è... Quello che effettivamente ci poteva servire per fare bene. Siamo abbastanza messi un po' così. Però non abbiamo perso più di tanto. Siamo sotto di... Se vinciamo questo, attento 3 punti. Perché comunque il Galatasaray è una partita in più. Occasione nostra, signori. Do sta Balotelli? Non so dove sia Balotelli, signori. Ok. Siamo gli unici, siamo gli unici là davanti. Dammela, 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 dammela che faccio io gioco. Li faccio confondi tutti. Vai, 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 scatta, 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 scatta. Ridammela, 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 ridammela. Mannaggia. Ok, signori, azione nostra, quattordicesimo. Lancio lungo, Balotelli. Vediamo se riusciamo a stopparla bene. Uno contro uno con il difensore centrale. Riusciamo a farlo fuori. Attenzione, in accelerazione non siamo più i Balotelli quelli famosi per le nostre accelerazioni. Ma siamo quelli famosi per i gol, signori. Siamo quelli famosi per i gol. Uno a zero. Dai così. Perché ultimamente se non segniamo noi, Stodana non segna più. Balotelli. Sta da solo davanti il portiere. Siamo leggermente in fuorigioco. Però va bene. Ce la facciamo ritare dietro. Ce la facciamo ritare dietro. La piazziamo per il 2 a zero, signori. 2 a zero del Super Mario Balotelli. Al 23esimo, doppietta. E va a fare il Sium turco di Super Mario Balotelli. Va bene così, va bene così. Dai, ci servivano questi trepi. Vedi, mi fa arrabbiare. Perché certe partite ti fa fare due azioni. Certe partite ti fa fare un sacco d'azioni che non servono a nulla. Perché già vinciamo 2 a zero. Dammi la, dammi la, dammi la, crossa là. Il roggio non ci crossa. Henry non ci vede, Henry non ci vede. 42esimo, ancora. Così è troppo fuorigioco però. Così se partiamo in velocità è troppo fuorigioco. Ok, va bene. Va bene, va bene. Va bene, va bene. Riusciamo a tenere fisicamente? Sì, riusciamo a tenere fisicamente. Riusciamo a entrare in aria? Sì, like you. No. Ci stava, il 3 a zero ci stava. Così ci portavamo il pallone a casa. Però non è stata questa la situazione giusta. Cerchio di centrocampo. Vediamo se riusciamo a farcela dare prima. Ok. Non abbiamo rischiato il fuorigioco. Cerchiamo il passaggio verso il compagno. Va bene, compagno, il passaggio è riuscito. Attenzione, ancora 1-2. 1-2, 1-2. La danna sport sta un attimino cinciscando. E ci sta, ci sta. Un po' di giocherello ci sta. Un po' di giocherello ci sta. E perdiamo però il pallone al centrocampo in maniera brutta. Grave errore, bravo. 64esimo, ancora. La danna sport in contropiede. Henry sulla faccia di sinistra. Cerca subito il ballo. Cerca subito il ballo che gli recupera il pallone. E ballo gli restituisce il pallone. Bravo su Henry che se ne va in velocità. In velocità, Henry non è per niente veloce. Però va bene, facciamo finta che sia veloce. Henry, Henry, Henry. 3-0. 3-0. Buono così. Ci ha dato anche l'assist. Tanta roba. Doppietta e assist. Però da lì non si ferma più. 67 esi. E basta. E basta. Però tra l'altro loro hanno un uomo in meno. Hanno un cartellino giallo. Hanno un cartellino rosso sopra la scritta del loro nome. Balotelli ancora. Vede il compagno. E c'è il 4-0. 2 assist e 2 gol per Super Mario Balotelli. Gran partita. 4-0. Inutile. Facciamo tutti questi gol nelle altre due partite. Sarebbe stato meglio. Però va bene. C'è capitata così. C'è finita così. Balotelli. 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 2 gol e 2 assist. Balotelli. Balotelli. Vediamo che si inventa. Balotelli. Balotelli. Ma che cazzo di gol ha fatto Balotelli. Ma che cazzo di gol ha fatto. Porca miseria. Va bene così. Tripletta. Il ballo. Si prende il pallone. Se lo porta a casa. Vi ricordo di una gran partita. 3-0. 3 gol signori. 5-0. Niente da lì. Niente da lì. Penso che abbiamo fatto tutti gli obiettivi. Penso che Montella non si possa lamentare in questa partita. 5-0. Poi ci portiamo a casa un bel 10. Penso che Vincenzino Montella non si possa lamentare. Ci siamo portati il pallone a casa. 3 obiettivi completati. E va bene così. E va bene così. Guardalo lì. Super Mario col pallone. E Montella gli fa i complimenti. Grande così. Grande così. Grande Montella. Grande Balotelli. Grande squadra. Va bene. Questa era l'ultima di oggi. Sì. La prossima è con il... Feyenoord. Signori. Ci giochiamo andata e ritorno. Sì. Il prossimo video. Signori. Ci andremo a giocare andata e ritorno con il Feyenoord. Mi fai vedere un attimino la classifica del campionato turco? Mi fai vedere? Mi fai vedere? Deve essere questo se non sbaglio. No. Questa è qualche coppa strana. Super League. Ah ecco. Devo salire di un altro. Siamo secondi. Sì. Siamo secondi a 6 punti dal Galatasaray. Che ha una partita in più. Però anche il Transport ha una partita in più ed è a 59. Il Besiktas ha una partita in meno. Quindi come noi a 56. Quindi potenzialmente è un punto sotto noi. Il Besiktas dovesse andare a pieni punti. Andrebbe a 59. Sarebbe un punto sotto di noi. Noi rimaniamo sempre a 6 punti dal Galatasaray. Va bene signori. Detto questo io vi ringrazio per aver guardato questo video. Vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suoi studenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento. E continuare questa avventura con Baludelli signori. Bella raga. Ciao. Ciao.